Dobbiamo camminare Prontà? Ma è automatico il fuoco? No, 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 dobbiamo camminare Dobbiamo camminare di dentro Dai ci sei, guarda dietro Prontà? Come ti lo dissi? Ah, già fermo, devi dire Tu prova, vai State piano Con la canzone così E comunque da ripare un video Pronti? 3, 2, 1 Seguite nei passi 3, 2, 1 Seguite nei passi Marco, metti il gettone al mio segnale Un'altra No, e toglilo adesso Vai Marco, stai fuori dall'inquadratura? Sì, tranquillo Sì, tranquillo Pronta? Uh, così Sì Mettine così puntata No, più verso l'alto Più verso l'alto Ok Vai C'è sì, guarda sì Non c'è un po' niente Sì Non c'è un po' niente Enthusiasm Sì 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 Grazie a tutti.